Avevano conquistato lo scettro degli appalti nel Trapanese e nell'Agrigentino, eliminando la concorrenza grazie al supporto più influente di tutti, quello di Matteo Messina Denaro. Maxi sequestro ai danni degli imprenditori Marco Giovanni ed Enrico Maria Adamo, padre e figlio di 71 e 42 anni originari di Castelvetrano, che hanno visto apporre i sigili sull'intero patrimonio ammontante, ad oltre 5 milioni di euro per mano della Dia di Trapani. Appartamenti, terreni, conti bancari, automezzi, un'imbarcazione e tre aziende, tutto generato dai proventi di grandi opere pubbliche e private, come ad esempio le condotte della Diga Delia di Castelvetrano o il metanodotto Mazzara del Vallo Menfi e l'acquedotto Montescuro Ovest. Le indagini, coadiuvate dalla DDA di Palermo, hanno permesso di ricostruire la scalata degli Adamo, con il figlio Enrico Maria, a più riprese eletto consigliere di Castelvetrano e in due occasioni nominato addirittura assessore del comune trapanese. Il metodo mafioso la faceva da padrone per scoraggiare gli avversari in sede di bandi e di gara per aggiudicarsi i migliori appalti e anche la stida agrigentina si era dovuta inchinare davanti a quell'amicizia di infanzia che Adamo Senior vantava con la primula rossa. Tutto era poi passato nelle mani di Adamo Junior senza che si interrompessero i rapporti con i clan trapanesi. Anche il cugino di Matteo Messina Denaro ed ex pentito Lorenzo Cimarosa, deceduto il mese scorso, fu coinvolto nella gestione dell'impero tra i quali spiccava anche il centro comunale polifunzionale di Castelvetrano.